Reporter Reporter Il nuovo presenta per le nostre vivibili Nicolai Reporter Il nuovo Questa è una più profonda Capitulo 1 la Scuritì quello che è il paese spagnolo e inglese questo mi ha vinto mi ha vinto posso apagar il grifo? mi ha fatto l'intenzione con tutto a ver se lo mi ha fatto è il mismo progetto che ha dovuto di questi di molti di questo è così non è così alta che non ho tempo per vedere cosa succede la sensibilità la sensibilità perché questo è qui? perché è mia casa non credo spero non vedo sin bateria ho il tio molto un po' di piz a ver sta a ver cosa sta passando sta come sta tapato qui è qualcosa è 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 via 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 non puoi sentire non puoi sentire il suo file di una pelicula eléctrica qui è un laterale medio, sta e sta nei sui laterali non stanno qui la tela qui è tutta la via in fronte l'avessi tirato ahi su file a ver si viene music please music please music 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 I think the accessigue is very high this is the process music 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 a a a a a a a Sì, è vero, è vero. come e e a e e e e euro a ver non ho lasciato un po' di tre che era vivano che era vivano con la sensibilità con la camara chile che dice che cosa che cosa che cosa aspettac che cosa che sa呢 capman acatto cinico ... ... ... ... per questa casa per cominciare vediamo se può essere è davvero molto amabile io sto postezando per la mattina e che miroco 40, 80, 20, 30 questo è un comic il della rana del ratone sale a morire 40, 80, 20, 30 trope la gente 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 trope i trope la mac forte da sa il app su Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.